Ho sognato un film che non è mai stato fatto, nel quale anch'io ero compreso nell'attività lavorativa ed affettiva di questo paese. Ero tranquillo e sereno, avevo prospettive per il futuro, anche per il sogno. Noi, so provano schnaggurto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché in realtà io non lavoro, non amo, non ho amici. Sono un virtuale. È vista l'ultimo. 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 È vista l'ultimo.